Al Grande Fratello Vip, Lulu Aile Selassie è scoppiata a piangere dopo aver appreso di avere usato con Manuel Bortuzzo le stesse parole di colui che poi gli ha sparato. Mortificata, ha espresso il suo timore di perdere ancora una volta il nuotatore, non posso pensare che ti allontani da me ancora, non ce la faccio. La puntata del Grande Fratello Vip, trasmessa lunedì 8 novembre, è stata particolarmente intensa per Manuel Bortuzzo e Lulu Aile Selassie. Il nuotatore ha ricevuto una lettera da parte della madre Rossella. La donna è sembrata contrariata perché Lulu, rimarcando quante sigarette avesse Bortuzzo a disposizione, lo ha definito goliardicamente mother fuck asterisco asterisco r, figlio di putt asterisco asterisco na, ndr, usando le stesse parole pronunciate da coloro che gli hanno sparato. Ovviamente, la principessa etiope è in assoluta buona fede e ha spiegato più volte di usare quell'espressione anche con sua sorella. Lulu Aile Selassie, dopo la puntata, è apparsa molto provata. La principessa etiope, infatti, dopo avere ascoltato le parole della madre di Manuel Bortuzzo, si è subito scusata con lui temendo di averlo ferito, quando una persona è sensibile si rende conto se qualcuno è triste. Io ho visto che il tuo viso è cambiato. Ti sei un attimo stranito ovviamente, ho sbagliato. Dalla tua faccia mi sembri arrabbiato, dispiaciuto, deluso. Manuel l'ha rassicurata, dicendole di non essere affatto arrabbiato, se sto così è perché mi manca mamma, non è per altro. Tranquilla, non ti preoccupare, hai visto che ti ho subito difeso. Non è un problema. Non è un problema. Non è un problema.